Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, siamo qui su Pausa Caffè per una nuova news, ma prima di partire vi ricordo che potrete iscrivervi al canale e se non l'avete fatto, attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video, oppure seguire la pagina se parliamo di FB. Vi ricordo inoltre che potrete lasciare un bel mi piace che al canale aiuta veramente tanto, o commentare e dire la vostra qui sotto, o semplicemente condividere con i vostri amici. Il 4 agosto scorso, Meghan Markle ha celebrato con gioia il suo 42esimo compleanno insieme al principe Harry e ai figli, Archie e Lilibet. Tuttavia, anche se può non essere poi così tanto una sorpresa, sembra proprio che la Royal Family Britannica le abbia destinato un dono che ha lasciato a desiderare. Sembrerebbe che la duchessa di Sussex si sia trovata di fronte a quello che viene descritto come l'insulto più significativo che avrebbe mai potuto immaginare, proveniente dai parenti del suo coniuge. Con loro, lo sappiamo, i rapporti non sono affatto idiliali. Ma quale potrebbe essere stata la natura di tale evento che ha destato tanto clamore? E, soprattutto, perché questo affronto sta facendo così tanto rumore? Andiamo a scoprirlo insieme. Il piccolo Archie è nato il 6 maggio 2019, il giorno del suo quarto compleanno. In Inghilterra, si incoronava Re Carlo III, ovvero suo nonno paterno. Proprio per questo, per metà giornata, il piccolo ha festeggiato con mamma Megan e la sorellina Lilibet Diana. Poi, più tardi è arrivato anche papà Harry, di ritorno dalla cerimonia che si era svolta all'abbazia di Westminster. Inizialmente, non era stato reso noto che cosa avesse ricevuto il principino come regalo ma, ora, si sa, una bicicletta rossa con le rotelline. Il piccolo mezzo arriva dal negozio Mad Dogs and Englishman Bike di Montecito. La proprietaria Jennifer Blevins ha raccontato a People che il suo compagno ha voluto consegnare personalmente la bicicletta al piccolo Archie, entusiasta della sorpresa. Forse, Harry e Megan hanno voluto mantenere così tanto riservo sul giorno del compleanno di Archie perché, ultimamente, sono stati spesso presi di mira dalla stampa britannica e non. Proprio per questo motivo, si vocifera che entrambi vogliano impegnarsi su progetti lavorativi che permettano loro di essere meno esposti a eventuali gossip. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.